E' una meraviglia. Ok, Batman è finita. Beh, tu sei finito, perlomeno. Devo ammettere che questo trionfo mi rende piuttosto magnanimo, perciò ti lascerò una scelta. Invece di proseguire verso l'umiliazione e la morte, lascerò che tu te ne vada via, in cambio di una dichiarazione firmata in cui rendi testimonianza della mia intelligenza superiore e ammetti che io ti ho dato scacco matto. Oh, la gatta resterà in ostaggio, ovviamente. Come segno del tuo fallimento. Oh, santo cielo, vuoi provarci davvero? Molto bene. Ma questo è il mio pezzoporte, detective. Il mio capolavoro. Il mio Nick Mablus Ultra. Nick Mablus Ultra. Allora, accompagniamo quelle inesplicabilmente gigantesca macchina giocattolo nel tuo ultimo viaggio. Ci siamo, Cavaliero Oscuro? La tua Teutoburgo? La tua Vaia dei Porci? La tua estrema di sfazza? Esatto, detective. Mai più veloce. Dritto verso la sconfittata. Ammira il tuo marco. Cosa? È impossibile. Non può essere. Dovei morire? Avevo controllato la curvatura con precisione. Ho le espazioni proprio qui. Ma non capisco. Non puoi essere ancora vivo. Ah, ma certo. Hai avuto fortuna, non è vero? Solo fortuna. Fortuna! La misericordiosa salvatrice negli idioti. Non posso certo calcolare la fortuna nelle mie equazioni, ti pare? Non sono un omeopatale. Non è un omeopatale. Non è un omeopatale. Visto che non sei nemmeno capace di ammazzarti, lo farò io per te. Ora controlli i meccanismi. Commetterai l'errore, certo che lo farai, io so che lo farai. Addio. Svece, di non morire! Ok, ci sei quasi. Ed eccoci qua. Basta, fermati. Congratulazioni, Catwoman. Ora sei libera. Libera di affrontare l'esame finale. L'esame. L'esame finale. Eddie, non sapevo avessi iniziato a barare. Sono delusa. Io nascondo, io cielo con perizia, ma io non raro. Come tu e Batman scoprirete nell'affrontare la stanza dell'enigma finale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.